Buongiorno ancora, in questa serie di due tradizioni ci occuperemo degli algoritmi con i quali potremo elaborare i grafi. Quindi finora abbiamo visto come si può creare struttura dati grafo come si rappresenta e adesso cominciamo a chiederci che tipo di operazioni, di algoritmi, di ricerca, navigazione, ottimizzazione, eccetera, possiamo fare all'interno di un grafo. E così come immaginiamo una collection nella quale prima abbiamo imparato a definirla e a inserire degli elementi e poi subito dopo abbiamo imparato come si ricercano gli elementi, come si scandiscono gli elementi all'interno della lista. Facciamo la stessa cosa anche qua sui grafi attraverso un'operazione che è un pochino più complicata perché ovviamente il grafo non è una struttura dati lineare ma è multidimensionale e quindi l'equivalente di attraversare una lista qua si chiama visitare il grafo. Quindi parliamo degli algoritmi di visita dei grafi. Quindi prima ovviamente cerchiamo di capire quali sono e come funzionano i metodi di visita di un grafo e poi ovviamente passeremo alla libreria J-Grafty a vedere come vengono implementati quindi noi come possiamo fruirne. Allora partiamo dalla parte diciamo così teorica. Cos'è la visita di un grafo? Beh, quando io parlo di visita di un grafo intendo, come c'è scritto qua nella definizione, l'esplorazione sistematica del grafo. Cioè esplorazione vuol dire vado a cercare i vertici. Sistematica vuol dire che mi do un certo metodo per riuscire ad andare a trovare questi vertici. E in funzione del metodo che applico probabilmente riuscirò a scoprire i vertici in un modo diverso, in modalità diverse. Una visita ha sempre un punto di partenza, un vertice che qui chiamiamo sorgente e ha l'obiettivo di raggiungere tutti i vertici che siano raggiungibili. Noi abbiamo già definito che ci sono alcuni grafi che sono connessi e quindi a partire da un qualunque vertice si possono raggiungere tutti gli altri, dei grafi che invece non sono connessi, quindi sono composti da componenti connesse, distinte e separate e ovviamente partendo da un determinato vertice. Se il grafo è connesso riuscirò prima o poi a trovare tutti i vertici. Se invece il vertice non è connesso, allora non raggiungerò tutti i vertici ma solamente quelli della componente connessa di cui il vertice di partenza fa parte. Qui non stiamo creando un cammino che va a percorrere tutti i vertici, semplicemente li stiamo trovando. Mi danno un vertice di partenza e mi dicono ok, dove puoi arrivare partendo da qua? E da qua io mi devo espandere, adesso in epoca in cui si parla molto di infezioni, questo modello di espansione è particolarmente adatto perché ci fa capire che da un punto di partenza si può arrivare a un certo insieme di vicini e poi da alcuni di questi si può arrivare ad altri fino a quando non si aggiungono tutti i vertici raggiungibili e ovviamente ci si ferma solamente quando non c'è un arco quindi quando un determinato nodo è isolato rispetto a un'altra parte del grafo quindi anche i concetti di isolamento li ritroviamo qua, in questo modello matematico. Ma tornendo alle cose semplici, ci sono ovviamente diversi metodi per implementare queste strategie di visita le due più semplici e che devo dire sono ai due estremi opposti, ai due lati opposti di tutte le altre strategie che di fatto possono essere intermedie sono la strategia di visita in ampiezza e la strategia di visita in profondità cosiddette breadth first in ampiezza e depth first in profondità. Sono le due più utilizzate, sono le due più semplici sia da capire che da implementare. Partiamo dalla prima, procedura di visita in ampiezza. Allora, l'obiettivo di questo, ricordiamocelo, è dato un vertice di partenza vertice source che è indicato qua quindi trovare tutti i vertici raggiungibili da questo raggiungibili con un passo, due passi, tre passi, con un cammino lungo, breve, non mi interessa. L'importante è che esista almeno un cammino che parte dalla sorgente e che arriva al vertice definito. Ecco, l'altra precisazione che faccio prima di entrare nel dettaglio dell'algoritmo è che questi algoritmi di fatto lavorano in modo analogo, equivalente sia che il grafo sia orientato, sia che il grafo sia non orientato. Ovviamente se il grafo è un grafo orientato la visita, la scoperta di nuovi vertici può avvenire solamente attraversando un arco nell'ordine opportuno ma non un arco al contrario. Vabbè, ma con questa precisazione quindi non ci occupiamo di questa distinzione e facciamo finta che il grafo sia per il momento non orientato solo perché è più semplice da disegnare ma la sostanza non cambia. Allora, come funziona il meccanismo di visita in ampiezza? Beh, tutto sommato ragiona per livelli successivi. Quindi diciamo che il grafo lo concepiamo come una serie di livelli concentrici passatevi i termini anche se qua non c'è un vero centro diciamo quelli di concentrici intorno al vertice sorgente. Quindi definiamo una serie di insiemi di vertici che sono raggruppati in livelli. Il livello indica appunto a che livello è giunta la visita. Noi abbiamo il, per definizione, diciamo che il vertice sorgente costituisce l'insieme S0 dei vertici di livello 0. Poi iteriamo una semplice operazione. Iteriamo costruendo dopo S0 una serie di altri insiemi S1, S2, S3, S4 corrispondenti ai livelli L uguale 1, L uguale 2, L uguale 3, L uguale 4 e così via fino a quando non esauriamo, diciamo così, la possibilità di andare avanti quindi questo insieme di vertici diventa vuoto. E come calcoliamo l'insieme di vertici L più 1 a partire dall'insieme di vertici SL? Beh, semplicemente consideriamo tutti i vertici del grafo che soddisfino contemporaneamente queste due condizioni. che siano, non siano ancora stati visitati che vuol dire che non siano ancora compresi in nessuno degli SL precedenti e che siano, questi vertici nuovi che stiamo costruendo devono essere adiacenti ad almeno un vertice del livello precedente. diciamolo con parole più semplici i vertici di livello 1 sono tutti i vertici adiacenti alla sorgente quindi tutti i vertici direttamente connessi alla sorgente i vertici di livello 2 sono tutti i vertici che sono adiacenti a un vertice di livello 1 e che non siano se stessi di livello 1 o 0 i vertici di livello 2 sono i vertici che sono adiacenti a un vertice di livello 1 e che non siano se stessi vertici di livello 1, 0 e così via. E quindi ad ogni passaggio di questo algoritmo iterativo, questo è un semplice loop, io vado ad espandere l'insieme dei vertici raggiunti al mio grafo partendo da tutti i miei vertici di frontiera e andando ad attraversare degli archi che non ho ancora attraversato prima per trovare sperabilmente nuovi vertici. Vediamolo graficamente. L'algoritmo parte, dicevamo, definendo una certa sorgente, che in questo caso magari è il vertice S, che qui ho evidenziato, e costituisce la sorgente da solo al livello 0, quindi l'insieme S0 è composto semplicemente da S. Adesso calcoliamo l'insieme S1, quindi passiamo al livello 1, l'insieme S1 sarà l'insieme dei vertici, cosa dice la definizione? Adiacenti all'insieme di livello 0, quindi l'insieme di livello 0 è composto solo da S, quindi S1 sarà composto di vertici adiacenti a S, R e W, e che non siano già compresi nei livelli precedenti, vabbè, questi non lo sono. E quindi il livello 1 è questo, è fatto dai vertici R e W. R e W sono vertici, è un insieme, non stiamo parlando di cammini, di percorsi o altre cose, quindi R e W tra di loro non sono collegati, non me ne frega niente, non sto dicendo che crea un cammino che porta da S a W e R, semplicemente sto dicendo R è raggiungibile da S? Sì. R è raggiungibile con un passaggio, passando da livello 0 a livello 1. W e R è raggiungibile da S? Sì, ma R e W sono indipendenti. Questo è il livello 1. Passo al livello 2, il livello 2 è la definizione che mi dice, trovami tutti i vertici che sono adiacenti a un vertice di livello 1, quindi adiacenti a R oppure adiacenti W, e che non siano ancora stati considerati. Quindi sugli adiacenti a R S non lo considero perché c'era già, l'ho già considerato nei livelli precedenti, V invece lo considero, e tra gli adiacenti a W considererò sia T che X, che sono entrambi adiacenti W e non ancora stati inclusi in nessun livello, e non considererò S di nuovo per la stessa ragione perché è già stato preso prima. Quindi il livello 2 sarà composto dai vertici V, X e T. Vedete che sono presi un po' di qua, un po' a destra, un po' a sinistra del grafo, non hanno necessariamente nessuna relazione tra di loro. L'unica cosa che hanno in comune questi tre vertici è che per raggiungere X partendo da S devo fare due passaggi. Come stiamo definendo i livelli, è chiaro che il livello mi rappresenta il numero minimo di passaggi che mi serve per raggiungere un determinato vertice. Livello 1 raggiungo tutti quelli che sono adiacenti a S, livello 2 raggiungo tutti quelli che sono adiacenti a livello 1 e che non siano essi stessi nel livello 1, quindi vuol dire che non li potevo raggiungere con un passo solo, li raggiungerò con 2 e così via. Livello 3? Livello 3 è composto dai vertici adiacenti a V oppure X oppure T e che non siano già stati considerati. Quindi adiacenti a V non ancora considerati non ce ne sono perché c'è R ma è già stato considerato. Adiacenti a X non ancora considerati, allora ci sarebbe T che è già stato considerato, ci sarebbe W che è già stato considerato, c'è invece Y, Y si lo aggiungo, Y farà parte del livello 3. Poi adiacenti a T non ancora considerati, W l'ho già considerato, X l'ho già considerato, U è nuovo e quindi lo considero. Di conseguenza il livello 3 sarà composto di vertici U e Y che sono gli adiacenti di V, T o X non ancora considerati nei livelli precedenti. A questo punto se cercassi di iterare ancora una volta troverei un insieme vuoto perché se mi chiedo quali sono gli adiacenti di U che sono T e Y non ancora considerati, nessuno. E così gli adiacenti di Y non ancora considerati non ce ne sono più. Quindi l'algoritmo di visita si ferma qua all'iterazione successiva, non trova più nessun vertice e quindi riusciamo a dire che l'insieme di vertici raggiungibili a partire da S, quindi abbiamo visitato il grafo partendo da S e abbiamo trovato 8 vertici in totale. 2 a livello 1, 3 a livello 2, 2 a livello 3 e ovviamente la sorgente a livello 0. Quindi questo mi dà l'insieme di vertici raggiungibili, mi dice quali sono i vertici che possono essere raggiunti da questo. Nel caso di un grafo connesso ovviamente troverò tutti i vertici. Ma non solo li ho trovati, ma ho un'informazione in più. Non solo ti dico che il vertice Y fa parte della visita, quindi è raggiungibile da S, e che è già un'informazione, Y è raggiungibile da S? Sì. Ma io ti posso anche dire come l'ho raggiunto. Come l'ho raggiunto? Beh, l'ho raggiunto, Y l'ho raggiunto partendo da X. E X come l'ho raggiunto? Beh, X l'ho raggiunto partendo da W. E W è direttamente connesso a S. Quindi in questo modo, visto che io via via costruendo il grafo aggiungo vertici, ti so dire non solamente quali vertici ho aggiunto, ma perché. E questo perché ho aggiunto il vertici, in quale condizione, mi definisce quello che chiamiamo l'albero di visita. Un albero di visita, ricordiamoci, un albero è un grafo connesso, è aciclico. Un albero di visita lo intendiamo come un albero la cui radice sia il vertice sorgente, i vertici di questo albero sono i vertici raggiungibili, quindi quelli che sono compresi all'interno del risultato della visita, e gli archi sono gli archi che abbiamo usato per scoprire nuovi vertici. Quindi, se noi evidenziamo nel disegno di prima i vertici e gli archi che sono stati usati per scoprire nuovi vertici, troviamo questo che è rappresentato in rosso. Quindi gli archi che sono rimasti in nero non fanno parte dell'albero di visita. Questo albero di visita, quindi, riassume per ogni nodo, ad esempio per il nodo X, faccio parte dell'albero? Sì, come è stato scoperto? Sono stato scoperto da W. Ovviamente l'albero non è su un grafo non orientato, hanno su tutti i dati non orientata, ma se noi immaginiamo che la radice dell'albero sia in S, così come abbiamo scritto qua, abbiamo imposto una radice ben precisa, che sia il vertici di partenza, allora è chiaro che questo arco va da sinistra verso destra, nell'albero, nell'orientamento che è stato indotto dalla scelta della radice. E quindi è chiaro che da X viene scoperto da W e attraverso X si scopre Y. Queste sono relazioni, diciamo così, non ribaltabili, in certo senso, orientate. Allora, questo albero, tra l'altro, ci serve una cosa interessante. Visto che abbiamo detto che se Y è nel livello 3, non poteva essere nel livello 2, che detto così sembra una banalità, ma vuol dire che per raggiungere Y mi servono 3 passaggi e non me ne bastano 2. Allora, di conseguenza, questo albero di visita mi codifica tutti i cammini più brevi tra, in termini di numero di archi, tra un vertice di partenza e un qualunque vertice di arrivo. Quindi la procedura di visita in ampiezza trova tutti i vertici raggiungibili, ma contemporaneamente trova anche l'albero che mi codifica quali sono i percorsi migliori, migliori nel senso del numero minimo di archi, per poter raggiungere appunto questi punti di arrivo, questi archi di arrivo. Ovviamente questo funziona solo contando gli archi, no? Se il grafo fosse pesato non è detto che il cammino più veloce, il cammino di peso minimo sia quello che è il numero minimo di archi, che sia chiaro. Questa è una nozione di distanza misurata solamente sul numero di archi. Però nel caso in cui ci serva, conoscere il numero di archi, semplicemente partendo da un vertice di partenza e arrivando a tutti i vertici, ho codificato quelli che sono tutti i cammini minimi. I cammini minimi, ad esempio, per arrivare ad y, il cammino minimo è quello che passa da x e a sua volta passava da w e a sua volta passava da s. Per arrivare a u, invece, il cammino minimo è u, arrivo da t, arrivo da w, arrivo da s. E quindi, ad esempio, il cammino s, w, x, t, u non è un cammino minimo, non è composto dal numero minimo di passaggi. L'albero di visita può non essere unico, perché può darsi che ci siano più cammini diversi, equivalenti, più alberi, di fatto anche più alberi di visita diversi equivalenti. Quindi, equivalente vuol dire che alla fine arriva un vertice passando da una strada diversa, ma con lo stesso numero di archi. Questa è la visita in ampiezza. Nel caso di una visita in profondità, la logica di visita è, invece, completamente diversa. Nella visita in ampiezza io non mi allontano mai dalla radice, dalla sorgente, più di quanto necessario, finché non ho scoperto tutti i vertici vicini. Quindi, parto dalla radice, tutti quelli intorno alla radice, e allora li considero tutti, poi dopo considero quelli a fianco, eccetera, eccetera. Il livello 4 lo considererò solo dopo aver considerato bene tutti i vertici di livello 3, e prima ancora quelli di livello 2, e così via. Quindi, cerco di non allontanarmi troppo dalla sorgente, e ogni volta cerco di scoprire i vertici che sono più vicini. L'algoritmo di visita in profondità fa esattamente il contrario. Cioè, una volta che sono su un vertice, vado avanti, parto dalla radice, trovo un primo adiacente, prima di andare a considerare gli altri adiacenti della radice, quando sono su questo primo adiacente, trovo un suo primo adiacente, e quando sono su quest'altro, trovo un suo primo adiacente, e così via. Quindi vado avanti, vado avanti semplicemente da un vertice, a quello adiacente, a quello adiacente, e così via, direttamente. Quando mi trovo in un vertice da cui non posso, ovviamente, fare questo lavoro, ovviamente, dovrò andare solamente su vertici che non ho ancora scoperto, non mi serve a niente tornare indietro su un vertice che ho già visto. Ecco, quando però, a un certo punto, mi trovo in un vicolo cieco, cioè in un vertice da cui non riesco più a uscire, perché non ha più archi uscenti, o gli archi che ha vanno verso vertici che ho già visto, allora tornerò indietro, ai livelli precedenti, e chiedermi, allora, ci sono ancora delle strade alternative che non avevo provato? Ma queste strade alternative, quindi, a partire, ad esempio, dal secondo adiacente della sorgente, lo considererò solo dopo che ho già considerato tutti i percorsi che nascono, che possono nascere, dal primo adiacente della sorgente. Quindi, in questo caso, l'implementazione classica di un algoritmo di visita in profondità è un'implementazione ricorsiva diretta. Cioè, parto dalla radice, visito il primo figlio, il primo adiacente della radice, da questo ricorsivamente parto da lui, visito il suo primo adiacente, ricorsivamente parto da lui, visito il primo adiacente, e così via, e solamente quando farò backtracking considererò il secondo e il terzo adiacente di un determinato vertice. E questo, quindi, dal punto di vista dell'algoritmo ricorsivo, semplicemente, se io chiedo di svolgere una visita in profondità depth first search, a partire da una sorgente, semplicemente dovrò prendere, dato un vertice sorgente, prima mi calcolo tutti quelli che sono W, gli adiacenti a V, e per quei W che non sono ancora stati visitati, visitali, cioè quindi stampalo, aggiungilo la collection, visualizzalo, e poi ricorsivamente visita W. E quindi, come sempre, noi conosciamo la ricorsione, prima di passare al secondo adiacente farò tutta la visita a partire da W e vai in avanti. Vediamo, andiamo con il nostro esempio, quindi questo è lo stesso identico grafo di prima, applichiamo un algoritmo di visita in profondità. Quindi, il primo passo dell'algoritmo mi dice, sono su S, quali sono gli adiacenti ad S? R e W. Ok, andiamo sul primo, quindi ricorsivamente chiamiamo la visita in profondità a partire da R. Quindi vuol dire che R l'ho visitato e quindi R l'ho raggiunto a partire da S e a questo punto, ripeto, sono su R e mi chiedo quali sono gli adiacenti ad R? V. E allora troverò V. A questo punto sono su V e mi chiedo quali sono gli adiacenti a V che non abbia ancora considerato? Nessuno. Allora torno indietro, backtrack. Torno su R e mi chiedo quali sono gli altri adiacenti di R che non abbia ancora considerato? Non ce ne sono più. Backtrack di nuovo, torno sull'ardizio, torno su S e mi chiedo quali sono gli adiacenti ad S che io non ho ancora considerato? Vabbè, c'è W. Ok, allora facciamo una chiamata ricorsiva e andiamo su W. E qui ripetiamo, di nuovo, sono su W, quali sono i miei adiacenti? T e X. Va bene. Passiamo al primo, scegliamo il primo, T e passiamo sul vertice T e ci chiediamo quali sono gli adiacenti a T? Vedete che mi sto chiedendo chi sono gli adiacenti a T prima di aver considerato X, prima di averlo ancora guardato. Semplicemente T l'ho scelto perché era il primo adiacente a W che ho trovato e ci vado sopra. Quindi gli adiacenti a T saranno U e X. Frendiamo il primo. Qui quando intendo primo ad esempio scelgo l'ordine alfabetico, no? Ma diciamo che è il primo che mi salta fuori nella struttura dati. In questo caso è U. Allora vado su e mi chiederò quali sono gli adiacenti a U? Beh, c'è T che ho già considerato e Y e allora vado su Y. Abbiamo un po' di pena per questo povero X che eravamo già lì vicino ma in realtà ci stiamo allontanando. Vuol dire che ci stiamo accorgendo che X lo raggiungeremo ma lo raggiungeremo con un percorso un pochino contorto, un pochino lungo, un pochino profondo e questa è la vita in profondità purtroppo ha questo effetto. Quindi dicevo da U ho scoperto Y quando farò la chiamata ricorsiva su Y mi chiederò quali sono gli adiacenti di Y non ancora visitati finalmente c'è X visito X e a questo punto ho finito perché qui ho visitato V, T, U, Y, X e a un certo punto comincio a fare backtracking perché X non ha più ha ancora degli adiacenti che sono T e W ma sono già entrambi stati considerati quindi torno indietro su Y mi chiedo se ha altri adiacenti non ancora considerati non li ha torno su stessa domanda stessa risposta non li ha torno su T hai altri adiacenti non considerati beh c'era X ma ormai X prima pensavo che fosse una adiacente che mi interessava ma poi per altra strada X è già stato trovato quindi a me non interessa più e così via torno indietro facendo il backtracking fino a ritornare alla sorgente S quando esco dalla sorgente come tutte le procedure ricorsive che si rispettino ho finito quindi quando faccio backtracking dal nodo di partenza ho finito la visita e quindi termino e anche qui ho lasciato in rosso indicati gli archi che sono stati utilizzati se pensiamo che S sia il nodo radice questo è di nuovo un albero è di nuovo un albero di visita è un albero di visita in profondità l'albero che salta fuori che scaturisce della visita in profondità non ovviamente questo albero non sarà l'albero dei cammini minimi abbiamo visto che X si poteva raggiungere con due passaggi noi invece in realtà lo stiamo raggiungendo con uno due tre quattro cinque quindi quest'albero pur essendo magari più magari comodo dal punto di vista del codice veloce da implementare in realtà non mi dà i cammini minimi ma è comunque raggiunge comunque l'obiettivo di partenza che era trovare tutti i vertici raggiungibili ovviamente l'insieme di vertici è lo stesso e trovare anche la strada con cui sia possibile raggiungerli che è determinata ancora una volta dall'albero di visita semplicemente nel caso della visita in ampiezza l'albero di visita ha quella proprietà in più di avere la profondità minima mentre invece nella visita in profondità non ho questo vincolo e quindi troverò i vertici ma attraverso cammini diversi in realtà l'albero di visita in profondità ha delle altre proprietà che ci permettono di dare un orientamento topologico al grafo quindi distinguere gli archi che non appartengono all'albero come archi che vanno verso avanti oppure che vanno verso dietro oppure archi che vadano a collegare i rami diversi della visita ma noi questa classificazione degli archi non ci interesserà particolarmente nel futuro quindi la possiamo lasciare da parte è solo per dire non immaginiamoci che la visita in profondità sia inutile perché non ci dà i cammini minimi ci serve in altri modi ma poi soprattutto se la dovessimo implementare veramente ci sono meno istruzioni e anche meno overhead di strutture dati quindi a volte è la più veloce da implementare nel caso di un grafo orientato le cose si modificano di poco o nulla nel senso che questo è un grafo che è orientato ma non è fortemente connesso ad esempio da S non è possibile arrivare a T da S non è possibile arrivare a T mentre da T è possibile andare verso S quindi non c'è una connessione forte in questo caso e quindi nel caso della visita io potrò partire da S e raggiungerò questa parte del grafo e se invece parto da T potrò raggiungere invece quest'altra parte del grafo quindi in questo caso in un caso di un grafo che non sia fortemente connesso l'albero di visita in realtà è una foresta non è un albero perché è composto da due parti sconnesse a loro volta quindi due sottoalberi separati tra di loro e su questi si può fare la classificazione degli archi come si vede B è un arco che torna indietro rispetto all'albero di visita quindi l'albero sta scendendo così e questo arco B è un arco che va al contrario mentre F è un arco che va avanti nel senso che l'albero viaggia così e F in qualche modo è un cortocircuito in avanti per raggiungere W con un passo in meno mentre C sono gli altri archi che vanno a cavallo tra un ramo e l'albero successivo quindi non si spostano né avanti né indietro sui rami dell'albero principale di visita queste classificazioni servono ad alcuni algoritmi che però poi noi non riprenderemo nel seguito all'interno di questo corso tra l'altro qui ritroviamo se vogliamo un'altra definizione di grafo ciclico perché un grafo ciclico è facile da scovare se il grafo non è orientato ma in un caso di un grafo orientato trovare se c'è un ciclo potrebbe essere complesso e quindi questo è solo un esempio dello scopo dell'albero di visita in profondità e della classificazione degli archi questo teoremino dice che un grafo è aciclico orientato se solo se la visita in profondità non produce nessun arco che torna indietro di tipo B e con l'arco di tipo B in questo caso ce ne sono 1, 2 e 3 e quindi questo grafo non è aciclico e quindi ha dei cicli orientati cosa che magari a prima vista non sarebbe stato semplice da scoprire non fanno parte dell'albero di visita ma il fatto che esistono degli archi che tornano indietro vuol dire che io posso scendere lungo un ramo poi tornare indietro e riscendere di nuovo lungo lo stesso ramo e questo crea un ciclo chiuso all'interno del grafo orientato di partenza va bene ma questa era più che altro una curiosità dal punto di vista della complessità ecco dal punto di vista della complessità la complessità di entrambi gli algoritmi è analoga perché poi alla fine fanno lo stesso lavoro nel senso che ognuno di questi due algoritmi considera tutti i vertici quindi ogni vertice lo prende una sola volta e quando prende quel vertice considera tutti i suoi adiacenti quindi considera ogni vertice una volta e per ogni vertice i suoi archi quindi la complessità totale sarà data dalla somma dei vertici più la somma degli archi presi diciamo così a gruppetti ma complessivamente tocchiamo tutti gli archi del grafo questo perché lo stesso vertice non viene mai considerato due volte cioè una volta che l'ho visitato non mi interessa più finisce così quindi la complessità è di questo genere o grande di V più E quella in profondità è una complessità minima anche V più E è un pochino più limitante perché alla fine nel caso del vertice di un'ampiezza se il grafo fosse completo o stellato io in un passo solo trovo tutto il grafo quindi ci sono dei casi particolari che rendono la visita in profondità in alcuni casi più fortunata quindi di complessità minima non pare V più E ma più bassa comunque questa è una complessità lineare in V e lineare in E per grafi sparsi il termine dominante è chiaramente V e quindi è una complessità lineare in V visitare un grafo spasso la complessità pare circa al numero di vertici linea cresce linearmente con il numero di vertici invece nel caso di grafi densi il numero di archi è sostesso il quadrato del numero tende a diventare il quadrato del numero di vertici e quindi diventa il termine dominante di questa complessità e quindi per un grafo denso l'operazione di visita ha una complessità V quadro quindi di nuovo la densità di un grafo è quella che ci permette o che determina la complessità degli algoritmi un grafo non troppo denso la visita è un'operazione essenzialmente lineare in un grafo molto denso è un'operazione essenzialmente quadratica poi se volete sapere di più qui c'è qualche cosina da leggere ma a noi bastano queste nozioni di partenza per poter passare a vedere come si implementano questi algoritmi di visita all'interno della nostra libreria JGraphT quindi JGraphT ci offre degli algoritmi di visita nella nomenclatura della libreria vengono chiamati algoritmi di attraversamento traversal e in particolare c'è un package all'interno di JGraphT che si chiama appunto traverse che contiene al suo interno diverse classi che implementano i vari tipi di algoritmi di visita o di attraversamento queste classi sono classi che sono implementate secondo il pattern dell'iteratore cosa significa significa che dentro il package traverse troviamo un'interfaccia generica iteratore di grafo e tante classi che rappresentano un iteratore è quello che usiamo normalmente per iterare sugli elementi di una collection qui non stiamo iterando sugli elementi di una collection stiamo iterando sugli elementi di un grafo stiamo iterando secondo le regole di un algoritmo di visita che ad ogni iterazione mi fornirà il prossimo vertice che ha trovato il prossimo vertice che ha scoperto e quindi qua vediamo ad esempio che c'è una classe bread first iterator che ovviamente è una classe che implementa l'interfaccia grafo iterator e che implementa l'algoritmo di visita in ampiezza mentre invece l'algoritmo di visita in profondità sarà implementato dalla classe adept first iterator quindi a seconda della classe che creiamo ovviamente questa classe lavorerà su un grafo l'iteratore mi restituirà i vertici in un ordine diverso l'ordine che è determinato dall'algoritmo di visita ma ovviamente alla fine quando la visita è esaurita i vertici che mi restituisce sono gli stessi quindi se io faccio andare avanti la visita fino in fondo troverò sempre gli stessi vertici perché quelli sono i vertici per definizione raggiungibili della sorgente poi però ogni tipo di ogni metodo di visita usa dei criteri diversi usa degli ordinamenti diversi con cui considerare i vertici ce ne sono altri 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 tipi di 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 visite ad esempio questa che parte a considerare per primi i vertici più vicini può aver senso in un grafo pesato oppure in un grafo casual ne prendo un vicino a caso e poi da lì vado avanti quindi una sorta di visita in profondità ma con una scelta casuale dell'adiacente e così via sono varie strategie diverse ma sono tutti alla fine dal punto di vista java sono tutti degli iteratori allora l'iteratore è il tipico metodo che è la tipica classe che ha due metodi next e asnet quindi io chiamerò ripetutamente il metodo next e questo metodo next mi restituirà uno dopo l'altro tutti i vertici che compongono la mia visita è un po' come se ogni volta che chiamo next mi deve essere il prossimo vertice che coloriamo di giallo rispetto alle figurine che abbiamo visto in precedenza chiamo next mi da la prossima chiamo next mi da la prossima ancora così via mi da un vertice per volta quindi anche nel caso della visita in ampiezza che genera un livello per volta e il next mi darà ogni volta un livello un singolo vertice in più del prossimo livello che sta calcolando allora proviamo magari a implementare questa questo iteratore per vedere come funziona e poi lo approfondiamo per riuscire a estrarre anche l'albero di visita e non solamente l'insieme dei vertici allora riprendiamoci il nostro eclipse che avevo messo qua da parte con l'esercizio del metro di Parigi esattamente come l'abbiamo scelto la settimana scorsa e proviamo adesso ad aggiungere al model un metodo che sia in grado di dirci o di compiere la visita all'interno del grafo della connessione partendo da qualunque stazione visita in ampiezza o visita in profondità se vogliamo le proviamo a implementare entrambe allora all'interno del model cosa possiamo fare noi potremmo creare dunque un metodo qui siamo dentro la classe model un metodo pubblico visita in ampiezza a partire da un certo vertice fatemi ingrandire clips che lo riuscite a leggere anche voi visita in ampiezza a partire da un certo vertice è una fermata è una fermata chiamiamola source che è la sorgente della visita il punto di partenza della visita questo metodo qui potrebbe restituire una lista di fermate e poi possiamo chiaramente stampare questa lista come lavora allora semplicemente abbiamo detto noi vogliamo visitare il grafo quindi visita l'intero grafo con la strategia bread first e ritorna l'insieme dei vertici incontrati ok source è il vertice di partenza della visita e beh questo ritorna l'insieme è un po' ripetitivo ma l'insieme di vertici incontrati ok allora questo lo otteniamo definendo un creatore quindi dobbiamo definire una classe che sia un bread first iterator che ovviamente nel momento in cui l'ho scritto sono andato a importare guardiamolo qua orc .jgraphd .traverse .bread first iterator mi serve una classe di questo genere che ovviamente sia personalizzata sul tipo di grafo che abbiamo quindi un grafo da cui i vertici siano affermati e i cui archi siano default edge perché questo era un arco non era un grafo con gli archi non pesati BFS chiamiamolo bread first visit a me viene BFS perché la S sta spesso per search perché la ricerca attraverso un albero di attraverso una visita in ampiezza uguale new questa cosa qua bread first iterator e questo costruttore new bread first iterator che parametri prende di quali parametri ha bisogno ha bisogno di sicuramente del grafo e anche del vertice di partenza perché gli dice da dove deve partire la visita vediamo la documentazione che dice ha un parametro il primo parametro G che è il grafo e il secondo parametro fermata che è il vertice di partenza c'è in realtà la possibilità di non specificare il vertice di partenza vediamo qua il testo se il vertice specificato fatemi ingrandire il testo se riesco se l'iterazione parte al vertice specificato start vertex e si limiterà al componente connessa che comprende quel vertice ovviamente se c'è una parte del grafo che non è connessa con quel vertice non la raggiungo se il vertice verificato di partenza è null quindi se qua come secondo parametro inserisco null l'iterazione parte da un vertice a caso e non viene fermata cioè una volta che è finita la prima componente connessa passa alla seconda componente connessa quindi alla fine mi darà sempre tutti i vertici del grafo è abbastanza inutile devo dire come operazione perché i vertici del grafo in realtà li ho già se li voglio conoscere tutti ok quindi noi invece abbiamo deciso un punto di partenza e possiamo creare l'iteratore l'iteratore una volta creato come tutti gli iteratori si posiziona sul primo elemento e quindi io posso andare avanti chiedendomi se esiste un elemento successivo quindi ho un ciclo while in cui vado a scandire i vari elementi e per ciascuno di essi best first visit posso estrarre il prossimo elemento e cosa faccio visto che devo restituire una lista la posso aggiungere a questa lista allora definisco la lista visita new array list di fermata e quindi potrò aggiungere alla mia visita il prossimo vertice che ho raggiunto la prossima fermata che ho raggiunto secondo l'iteratore questo ciclo va avanti quindi aggiungerà alla collection visita tutti i vertici man mano che li trovo e fino a quando as next non diventerà falso quindi vuol dire che non c'è più un vertice successivo quindi non c'è più nulla da aggiungere la visita si è esaurita l'iteratore ha finito il proprio lavoro e quindi non serve più a niente quell'oggetto lì una volta che un iteratore è arrivato al fondo lo posso buttare via diventa inutile ma io nel frattempo mi sono salvato i vertici che ho trovato all'interno della lista visita che posso a questo punto restituire al mio chiamante return visita ok quindi se io conosco un vertice di partenza mi darà la lista dei vertici raggiunti secondo una visita in ampiezza partendo da quel vertice la possiamo volendo testare quindi noi avevamo nel nostro main la creazione di un model adesso appunto lo model M lo segniamo una variabile e poi possiamo chiederci se la lista di fermata visita faccela calcolare dal modello chiedendogli di fare una visita in ampiezza perdon perché ho messo la lettera maiuscola qua che è brutto da vedere visita in ampiezza a partire da un vertice sorgente adesso la cosa un pochino scomoda che dobbiamo gestire a livello di programmi di test è che bisogna specificare un vertice sorgente e noi i vertici come fa il programma di test a scegliere qual è il punto di partenza se avessimo l'interfaccia utente avremmo una tendina da cui scelgo il vertice qui siamo nel programma di test la tendina non ce l'abbiamo però potremmo prendere magari la prima lista delle fermate quindi potremmo fare qualcosa tipo m punto fermate punto gate di zero è una porcata è una porcata a due livelli il primo livello perché sto prendendo sempre il primo elemento che sto dando per scontato che esiste ma anche perché sto accedendo a un campo privato del modello è vero che sono sempre dentro la classe model ma sono dentro il main di prova se io provassi a prendere questo codice qui a portarlo fuori dal main in una classe di test come sarebbe più giusto fare questo campo qui a me appunto fermate non ce l'avremmo e allora dovremmo inventarci un altro metodo che ci dica che dato il nome di una fermata forniscimi il come si chiama l'oggetto corrispondente oppure aggiungere un metodo get fermate allora a questo punto posso prendere il primo elemento del get fermate che mi darà restituire una copia della lista vabbè ma questo come dicevamo è solamente per provare e quindi possiamo stampare questa visita in ampiezza allora ovviamente ci dobbiamo aspettare qualcosa che non capiamo perché eccola qua abbiamo identificato una capo prima e quindi è brutto da leggere aggiungiamo la capo e rilanciamo il programma lui è partito da quella stazione di Abbes che è da qualche parte è la prima che ha letto nel database e quindi la prima da cui è partito a fare la visita e poi ha cominciato a sparare fuori altre stazioni allora magari facciamo un'operazione di di vederlo questo elenco di stazioni in uno spazio un pochino più ampio e di affiancarlo anche dalla cartina delle delle fermate che era in questo pdf quindi cerchiamo di aprirlo per capire cosa ha fatto allora questa stazione di Abbes chissà dov'è qualcuno se la ricorda eccola qua per fortuna in pdf c'è la funzione di ricerca e la funzione è questa quindi la nostra ricerca in ampiezza parte da questa stazione semi dimenticata che è vicino a Montmartre e noi vediamo una cartina che ha come adiacenti la mark Epigal quindi ci aspettiamo che subito dopo Abbes ci siano la mark Epigal in qualche ordine che non conosciamo e che costituiranno questi due i vertici di livello 1 allora andiamo a vedere se è vero dopo Abbes ci metto io una capo per separare la sorgente dal livello 1 vedete che al livello 1 abbiamo queste due quindi l'ordine con cui sono state trovate queste stazioni è coerente con l'ordine di ricerca in ampiezza poi dalla mark torniamo sulla cartina e cerchiamo i nodi di livello 2 ci sarà questo Gilles de Geoffren che sarà di livello 2 da Pigal invece ci sono tre stazioni Blanche Saint-Georges e Anvers quindi mi aspetto che il livello 2 sia composto in un qualche ordine che non sono io che posso controllare Giorgio Fran Anvers Blanche e Saint-Georges vediamo se è vero Giorgio Fran Saint-Georges Blanche e Anvers e questo è il mio livello 2 livello 3 si complica perché livello 3 si prende di qua Marcadet di qua Danvers trova questo Barb da Blanche trova Place de Cricci e da Saint-Georges crea Notre Dame de Lorette quindi sono solamente quattro per fortuna che sono questo Marcadet Notre Dame de Lorette Place de Cricci e Barb Place de Cricci l'abbiamo visto sulla cartina o ce lo siamo persi Place de Cricci è qua è adiacente a Blanche da qua le cose si complicano un pochino chiaramente perché noi dobbiamo prendere gli adiacenti a Marcadet che sono Saint-Georges Chateau Rouge e Marx di qua quindi sono tre poi dobbiamo prendere che sono questi Marc, Simplon e Chateau Rouge un, due, tre poi dobbiamo prendere gli adiacenti a Notre Dame de Lorette a Notre Dame de Lorette qua sotto ci abbiamo solamente tre di interesse che è qua poi dobbiamo prendere gli adiacenti a Place de Cricci che invece sono tre Lafourche, Rome e Liège Lafourche, Rome e Liège e infine dobbiamo prendere gli adiacenti a Barbaro Checoup Quart come si chiama e gli adiacenti a questi sono Chateau Rouge perché può tornare indietro di qua sono La Chapelle e sono Garde du Nord se non sbaglio quindi Chateau Rouge La Chapelle Garde du Nord La Chapelle Garde du Nord e Port de la Chapelle Port de la Chapelle c'era vero? era Barbaro Chateau Rouge Garde du Nord La Chapelle eccola qua e sono arrivato al livello 0 ops 0 1 2 3 4 e vado avanti così quindi l'ordine con cui trovo le stazioni di fatto è una sorta di cerchi concentrici che partono dalla stazione di partenza e si allargano via via e alla fine non ho voglia di contarli ma visto che questa è una metropolitana connessa cioè da qualunque stazione posso andare in qualunque altra stazione alla fine mi aspetto di avere esattamente 619 vertici se vogliamo possiamo mettere un size per vederli questo è la visita in ampiezza se avessimo fare la stessa cosa in profondità vabbè basta che noi copiamo questa funzione e la chiamiamo visita in profondità e anziché un depth first iterator definiamo un depth first iterator è iterator quindi dfv e non bfv depth first iterator e allora questo dfv dfv e nel main posso fare la stessa cosa però chiamare la visita 1 visita 2 visita 1 visita 2 e la seconda è la visita in profondità e quindi se eseguo la visita in profondità dello stesso grafo a partire dallo stesso vertice di partenza che ormai sappiamo che sia Abess troveremo un risultato che invece è molto diverso allora proviamo a studiare come salta fuori quest'altro risultato ovviamente abbiamo il punto di partenza che è Abess poi dopo Abess c'è Pigalle e fin qua dove siamo? fin qua non è cambiato nulla da Abess adesso è andato a Pigalle bene adesso da Pigalle lui sceglierà uno di questi tre vertici Blanche Saint-Jean oppure Anvers ha scelto Anvers ok dopo Pigalle ha scelto Anvers eccolo qua dopo Anvers quindi è andato avanti dopo Anvers sceglierà un adiacente di Anvers allora la domanda che lui si fa ci sono degli adiacenti non ancora visitati sì c'è questo Barbet e allora vado a Barbet eccolo qua e poi da qua mi chiedo sono arrivato qui ci sono degli adiacenti non ancora visitati beh forse Chateau Rouge forse La Chapelle forse Garde du Nord uno di questi tre prendiamone uno Garde du Nord ok che abbiamo preso a questo punto sono su Garde du Nord uno smistamento incredibile e questo qua tantissimi adiacenti alcuni anche lontani perché vedete che qua ci sono delle linee che vanno direttamente fino a qua ad esempio o fino a qua oppure ci sono delle linee più di breve percorrenza e di tutte queste linee lui ne sceglierà una che in questo caso ha scelto Saint Denis quindi da Garde du Nord ha scelto Saint Denis che chissà dov'è Saint Denis può essere questo e poi da lì cosa ha scelto da lì ha scelto questo Epinè che è da qualche parte e no Saint Denis era qua era questo qui a questo qui è collegato adesso non riesco a trovarlo sulla cartina ma va avanti così essenzialmente quindi non non ci stupiamo che ci siamo in 3-4 passaggi direttamente allontanati decisamente allontanati da Bess prendendo le strade da cui se ci chiedono torna indietro magari non lo sappiamo ecco l'unica cosa è che lui non sta andando a caso ma è dentro una procedura ricorsiva quindi ogni volta che io ho detto in cui ho detto guarda che lui adesso qui è in un vertice e ne sceglie a piacere uno di quelli successivi in realtà non è che ha dimenticato tutti gli altri se li sta ricordando nella ricorsione quando poi farà backtracking se dovrà fare backtracking tornerà indietro quindi ad esempio il nostro Lamarck che poverino dopo Pigalt era lì vicino e l'abbiamo dimenticato perché siamo partiti a fare un giro strano ci sarà da qualche parte ci sarà da qualche parte o in questo caso è quasi alla fine è quasi alla fine perché di fatto lui partendo da Pigalt ha fatto tutta una serie di giri poi probabilmente facendo il backtracking è tornato quasi fino alla radice anche perché Lamarck poverino non ha molti altri vedete che è su una linea che in qualche modo tende a morire e quindi non è non l'ha raggiunto da altre strade e ci sono poi ancora altri Marks e Port che sono quelli su questa linea qua che abbiamo recuperato con gli ultimi passi di backtracking quindi scopri i vertici primariamente va avanti va avanti finché riesce e quando non riesce più fa backtracking e backtracking lo può fare anche su parti molto molto lontane del grafo però dal punto di vista del codice come vedete è estremamente semplice volendo noi potremmo anche visto che questi due metodi sono estremamente simili possiamo anche ricordarci che se ci fa comodo che entrambi breadth first e breadth first iterator sono istanze di graph iterator quindi volendo se volessimo diciamo così astrarre potremmo semplicemente chiamare graph iterator l'oggetto e poi come sempre nella new un po' come quando definiamo una lista e poi creiamo un array list oppure definiamo un hash table e poi creiamo un hash map poi definiamo un hash table oppure una tree map definiamolo con l'interfaccia e poi lo creiamo con l'oggetto si può fare ovviamente in entrambi i modi ma ricordiamoci che se per noi non è tanto importante sapere che tipo di iteratore vogliamo o se vogliamo passare questo oggetto da altri metodi che facciano altre operazioni allora lo possiamo definire semplicemente come graph iterator ok l'ultimo passaggio che vorrei vedere è come ricostruire come fare a ricostruire l'albero di visita perché noi finora abbiamo visitato abbiamo ottenuto l'elenco dei vertici abbiamo un pochino capito sulla base dell'ordine con cui sono emersi questi vertici abbiamo forse capito un pochino meglio come lavora quell'algoritmo quello in profondità è sempre un pochino imprevedibile mentre quello in ampiezza è un pochino più domabile ma non abbiamo l'albero di visita l'iteratore ha solo un metodo un extra non è che gli posso chiedere dammi altre informazioni allora ovviamente chi ha pensato alla libreria jgraph tea ovviamente questo problema ce l'aveva ben presente e allora ha aggiunto degli altri ha aggiunto degli eventi all'interno del dell'iteratore cioè questo iteratore mentre va avanti lui genera degli eventi eventi ai quali se noi vogliamo possiamo aggiungere un event handler un gestor di eventi esattamente come facciamo con l'interfaccia utente quando vogliamo intercettare un click dell'utente ebbè anziché intercettare un click dell'utente intercettiamo un nuovo vertice scoperto allora ci sono è possibile diciamo così definire dei traversal listener che sono delle classi mie che gestiscono l'evento e questi traversal listener possono intercettare vari tipi di eventi ad esempio è stato attraversato un vertice è stato attraversato quindi visitato prima ricordate che qua la libreria usa il termine attraversare noi tendiamo più a usare il termine visitare è stato visitato un vertice ho finito di visitare un vertice finire un vertice vuol dire finire di considerare tutti i possibili archi e aver deciso che non ci sono più altri archi da considerare oppure ho iniziato sono entrato in una nuova componente connessa oppure sono uscito da una nuova componente connessa il fatto di entrare in una nuova componente connessa ha senso solamente quando il vertice di partenza è nullo e quindi l'iteratore continua ad andare avanti come abbiamo letto prima nella documentazione allora noi quello che possiamo fare è andare a osservare quali archi vengono attraversati e se questo arco scopre un vertice che non avevamo ancora visto vuol dire che questo vertice farà parte dell'albero di visita questo è un lavoro che ci dobbiamo fare a mano ci dobbiamo fare a mano ci dobbiamo ricordare quali vertici abbiamo incontrato e da quali altri vertici proveniva l'attraversamento purtroppo ci dobbiamo fare a mano allora proviamo a farlo diciamo ci interessa l'albero di visita l'albero di visita noi l'abbiamo disegnato ma anche veniva bene disegnato con le con le righine rosse con i segmenti rossi ma in pratica come lo rappresento beh in pratica quest'albero di visita lo posso rappresentare dicendo per ciascun vertice da quale vertice provenivo e quindi in termini di struttura dati questo mappa un vertice con il vertice in qualunque vertice raggiunto visitato con il vertice di provenienza quindi quindi nel nostro caso una mappa fermata fermata possiamo codificare riassumere un albero all'interno di una mappa nella quale la chiave sia un vertice e il valore sia il padre del del nodo ci basta una mappa semplicemente sarebbe un elenco di coppie ma come mappa è molto più da usare perché ogni nodo ogni vertice ha esattamente solo un padre mentre in un albero un nodo può avere più figli ma avrà sempre solo al più al massimo un padre tranne le radici che non ce l'ha ok allora noi possiamo usare la mappa appunto proprio per rappresentare questo tipo di informazione che raccogliamo durante la visita quindi se noi volessimo creare un albero di visita quindi creiamo un altro metodo public che crea l'albero di visita e pensiamo quello in ampiezza per semplicità l'albero di visita in ampiezza per semplicità che parte ovviamente da una fermata di partenza e questo mi potrà restituire l'albero di visita sotto forma di una mappa fermata fermata quindi in pratica noi vediamo su questo esempio su questo esempio dove è andato blocco note eccolo qua e riduciamo in dimensione giusto per far capire in questo caso questo albero di visita sarà codificato così r s quindi r l'ho scoperto da s poi v l'ho scoperto da r quindi questa è la chiave il primo elemento della mappa e questo è il valore il secondo elemento della mappa poi ho w s s poi avrò t w w poi avrò ut u è stato scoperto da t poi avrò y è stato scoperto da u e poi avrò che x è stato scoperto da y in questo caso stiamo codificando con questa mappa l'albero di visita in profondità di questo grafo quindi l'idea è vertice scoperto nuovo scoperto virgola questa è la chiave dell'elemento e il valore è vertice precedente da cui arrivavo questa è un pochino la leggenda se vogliamo di questo tipo di rappresentazioni quindi questa mappa mi dice tutto mi dice ma senti come è fatto quell'albero beh questi sono gli archi dell'albero in realtà sono gli archi girati al contrario perché mi dà dalla foglia verso la rodice dal figlio verso il padre semplicemente perché il padre è unico altrimenti capite che nodi come s qua che hanno due figli non saprei come rappresentare da s a quindi anziché rappresentare da s verso r e w che dovrei mettere già un insieme di figli semplicemente rappresento da r verso s da w verso s il fatto che s compaia due volte significa che ha due figli che sono rispettivamente r e w doppio quindi questa è la presentazione più compatta possibile la rivedremo la prossima lezione quando faremo i cammini e quindi questa come la possiamo costruire quindi chi lavora su questa struttura dati non è sorpreso da vedere dei cammini codificati sotto forma di una mappa come la posso costruire e la costruisco facendo una una di fatto una un'operazione di visita quindi prendiamo crediamo un iteratore di visita in empiezza ma prima di far partire la visita possiamo aggiungere dei traversal listener all'iteratore stesso quindi c'è questa metoda attraverso il listener che andiamo a vedere ecco qui dice che aggiunge uno specifico attraverso il listener al nostro iteratore e questo fa in modo che vengano generati degli eventi ogni volta che che avviene una determinata operazione attraverso il listener non è altro che una classe che è stata definita partendo diciamo che implementi questa interfaccia vedete i è un'interfaccia e noi dobbiamo implementare la nostra classe attraverso l'isterna specifica ecco vediamo come è fatto questo attraverso il listener andandoci a prendere magari la documentazione direttamente sul sito di jgraph.t che dice che questa classe questa interfaccia delle classi che noi dobbiamo implementare che implementi questa interfaccia deve implementare questi quattro metodi e a noi interessa questo ad esempio quindi noi gli altri quattro metodi non ci interessano li potremmo lasciare non definiti che non facciano nulla ma invece sul traversamento dell'arco ci interessa come facciamo a definirlo vabbè noi potremmo definire una classe esterna ma forse facciamo prima visto che è un'operazione che ci serve solamente in questo punto a definire direttamente una sottoclasse anonima in line questo l'avamo già visto fare new traversal listener e usando l'autocompletamento di eclipse nel momento in cui ho creato new traversal listener eclipse mi ha aperto una classe con i metodi da implementare ok quindi noi stiamo implementando questa classe questo traversal listener riduco un attimo lo zoom per orientarci capire dove siamo ok qui abbiamo una classe anonima attraverso al listener che sto definendo qua dentro la cui definizione finisce qui a questa parentesi graffa qua sotto e tutto questo è dentro delle parentesi tonde che sono questa e questa lassù che sono il parametro la chiamata del metodo attraverso al listener attraverso al listener ok adesso ingrandiamo di nuovo cosa riusciamo a leggere quindi all'interno della chiamata di attraverso al listener sto definendo una classe che implementa l'interfaccia attraverso al listener e implementa una certa serie di metodi adesso magari risparmiamo un po' di spazio questo in realtà non mi serve quindi lasciamo che il metodo non faccia nulla aperto e chiuso a graffa vertex finish non mi serve tanto è void quindi non sono obbligato a ritornare nulla vorrà dire che quando l'algoritmo raggiunge quell'azione che ad esempio finisce un vertice chiamo questo metodo questo metodo non fa nulla e vabbè nessuno si è fatto male però deve esserci altrimenti la classe non implementa correttamente l'interfaccia quindi qui facciamo la stessa operazione e qui facciamo la stessa operazione sono metodi che non ci interessa rimplementare e ridefinire però dobbiamo definirli perché stiamo implementando un'interfaccia e non stiamo semplicemente estendendo una classe che potrebbe avere le definizioni di default di questi metodi allora in questo edge traversal qui siamo qui quindi l'algoritmo la visita sta considerando visita sta considerando un arco allora io mi chiedo questo arco ha scoperto un nuovo vertice se sì provenendo da dove perché se ho queste due informazioni nuovo vertice scoperto e da dove provenivo allora sono a posto nel senso che posso aggiungere un elemento alla mia mappa la mia mappa chi è dove e beh ovviamente la devo creare prima di tutto questo come prima cosa quindi creo una mappa di fermata fermata che è il mio albero new hash map creata qua e però come faccio a sapere cosa è successo e beh io ricevo questo metodo chiamato questo gestore di eventi riceve un oggetto di tipo edge traversal event andiamo a vedere come è fatto questo oggetto edge traversal event nella documentazione mi dice che è un oggetto che è composto da un arco ovviamente ogni ognuno di questi callback riceve un evento diverso vertex traversal event edge traversal event connect il component traverso l'event e così via nel mio edge traverso l'event ho un oggetto arco quindi mi sta dicendo qual è l'arco che lui sta considerando e quindi ho un metodo get edge per poter ottenere l'arco quindi io ho il mio arco e punto get edge attenzione qui c'è anche un metodo get source che non c'entra nulla col source dell'edge col punto di partenza dell'arco perché è il source dell'evento cioè l'oggetto che ha creato l'evento invece get edge è l'arco attraversato l'arco attraversato può essere attraversato in un verso oppure nell'altro e quindi è un po' un po' noiosa questa parte qua perché io devo chiedermi questo arco sarà un arco di tipo diciamo così un arco di tipo AB allora può darci che ci siano due casi che ho scoperto A partendo da B oppure ho scoperto B da A come faccio a sapere? e beh lo saprò perché uno dei due non lo conoscevo uno dei due non lo conoscevo allora default guardiamoci questo questo è l'arco che l'algoritmo di visita sta attraversando a questo punto mi chiedo A lo conoscevo già era già stato visitato? allora se era già stato visitato vuol dire che nella mia mappa so già come arrivarci W è già stato visitato? sì so già come arrivarci quindi immaginiamo di vedere questo arco T W allora io so che l'arco scopre T partendo da W perché? ma perché W già lo conosco già so come arrivarci mentre T ancora non so come arrivarci quindi W è l'arco di partenza cioè il vertice di partenza perché non era ancora perché era già stato incontrato T è l'arco d'arrivo e quindi diventa la chiave della nostra mappa il figlio perché non lo conosciamo ancora e quindi dovrò controllare if allora edge devo avere il sorgente e l'arrivo allora troviamoli così fermata A uguale usiamo AB come prima uguale graph this punto graph come si chiama il grafo semplicemente graph si punto si chiama graph questo signore si graph ah non è this punto scusatemi non è this punto graph perché qui sono this sarebbe l'oggetto attraverso il listener quindi semplicemente graph punto punto get edge source di edge e fermata p uguale graph punto get edge target di edge a questo punto chiediamoci A lo conosco già se A lo conosco già vuol dire che è già tra le dicevamo W lo conosco già perché è già tra le chiavi di questa mappa quindi posso chiedere alla mappa se lui se la mappa già contiene A e la mappa si chiamava albero quindi albero punto contains chi A se tu contieni la chiave A allora vuol dire che dovrò ho scoperto B perché A già lo conoscevo quindi dovrò aggiungere l'albero put non compute put B arrivando da A altrimenti 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 se A non era già noto dovrò aggiungere sempre compute questo scema put ho scoperto A da B quindi vuol dire che se A non lo conoscevo probabilmente conoscevo B quindi è faticoso perché le informazioni ce le dobbiamo andare a scovare un pezzo per volta perché l'oggetto ci dà l'arco e l'arco non sappiamo in che ordine è stato messo e non sappiamo a che punto siamo nella ricerca ecco tutto questo funziona se attenzione al primo passaggio quando io trovo l'arco RS mi devo chiedere quale dei due conosco già e beh in realtà inizialmente al primo arco che vedo non conosco nessuno dei due e quindi non saprei cosa fare allora dobbiamo ricordarci che la sorgente dobbiamo inserirla a mano noi prima di questa iterazione perché la sorgente non viene scoperta attraverso nessun arco c'è già allora andiamo su quando ho creato l'albero ricordiamoci di aggiungere all'albero come prima cosa la sorgente che è questo autocompletamento di Eclipse l'odio la sorgente che è source scoperta da null cioè non ha padre l'è l'unica che non ha nessun padre e quindi la devo mettere dentro a mano allora se non ho sbagliato nulla cosa che è improbabile con codice abbastanza contorto come questo il mio metodo albero di visita ha creato un iteratore e adesso man mano che io farò lavorare l'iteratore l'iteratore quando trova nuovi archi chiama chiama questo metodo edge traverse il metodo di traverse andrà a considerare l'arco e aggiungerà nell'albero di visita una o l'altra di queste due operazioni o di queste due coppie fatto questo quindi adesso io ho un iteratore che dovrò però far lavorare perché l'iteratore l'ho creato ma non ho ancora fatto nulla allora io semplicemente dovrò bfb non mi interessano i valori ma li faccio lo faccio comunque lavorare quindi li faccio estrarre l'elemento e ignoralo non lo sto salvando nessuna parte non mi interessa l'importante è che lui lo faccia perché il fatto di estrarre il prossimo elemento fa sì che lui attraversi un arco che mi interessa che mi serve allora alla fine di tutto ciò che io ho è l'albero sembra un po' stanno perché l'albero non l'ho popolato qui in realtà in realtà questo chiamare questo next scatena tutta una serie di cose che alla fine chiameranno questo edge traverse che metterà l'informazione dentro l'albero allora incrociando le dita proviamo a testare cosa succede si vede qua e quindi noi ci facciamo calcolare una mappa di m.albero di visita albero albero uguale m.albero di visita sempre partendo dalla nostra stazione che già conosciamo e poi proviamo a visualizzare questa mappa proviamo a visualizzare con un ciclo for fermata 2.albero 2.albero punto keys quindi per ogni chiave fermata f stampami punto out punto format la tratta la tratta la tratta dell'albero che sarà nella forma da una stazione alla stazione anzi meglio mettiamo la freccia al contrario perché la stazione nuova scoperta da quella vecchia in cui ci metterò ovviamente la stazione scoperta che è f e quella vecchia da cui l'ho scoperta che è albero punto get di f e poi barra n andiamo a capo proviamo a eseguire questo codice stranamente non abbiamo dato errori ecco vediamo cosa abbiamo ottenuto qui abbiamo l'albero di visita a partire dalla visita in ampiezza e quindi abbiamo BES che le frecce sembrano messe al contrario tra l'altro sono messe in ordine alfabetico che è abbastanza no questo è una visita sembrano messe in ordine alfabetico quindi purtroppo un hash map ci rimescola gli elementi e quindi dobbiamo allora facciamo prendiamolo mettiamolo in un file di test così lo riusciamo a ricercare più comodamente potevamo prendere la metropolitana di Torino probabilmente l'avranno fatto più rapidamente ma molti dei ragionamenti sui grafi in qualche modo si sarebbero persi vista la topologia particolarmente magra della metropolitana di Torino quindi andiamo a prendere di nuovo l'editor di testo allora questo qui lo mette in ordine che vuole lui perché se non set allora cerchiamo null che non dovrebbe non c'è allora a BES è qua e qui mi dice ho messo la freccia al contrario a BES Pigal se poi cerco Pigal mi dice Pigal Anver se cerca Anver mi dice Anver Barb eccetera vedete che in questo caso e quindi ogni vertice mi dice da dove proviene eccolo qua Barb da Gardinor e così via questa freccia scusate mi ha scritta al contrario quindi una generazione da sinistra verso destra che rappresenta l'arco dell'albero di visita e quindi ognuna di queste comparirà magari una volta sola oppure due a seconda che sia un punto di smistra ad esempio questo Barb compare tre volte una come figlio e due come padre quindi compare con Anver compare come Gardinor dall'altro lato e compare come Barb insieme a Chateau Rouge vuol dire che questo Barb ha due figli che sono Chateau Rouge e Anver e ha un padre che è Gardinor e qui ci stiamo immaginando immaginate mentalmente il nostro alberello che ha il nord Gardinor come figlio a Barb e Barb a sua volta ha due figli che sono Chateau Rouge e Anver e così via quindi stiamo costruendo l'albero di visita che poi si può chiaramente andare a esplorare se ci interessa quindi questo è un pochino purtroppo è una delle poche operazioni di base semplici diciamo così che la libreria JGraft non fornisce nativamente la costruzione dell'albero di visita e diciamo siamo obbligati a costruirla con alla fine sono 4 o 5 righe di codice però richiede un certo tipo di progettazione di ragionamento perché dobbiamo capire che ci serve una mappa e costruire questa mappa questo ci può servire sicuramente in alcuni esercizi in cui poi dovremmo trovare magari dato il vertice Y come fare o il vertice X come far raggiungerlo allora parto da Y e poi faccio tutta una serie di operazioni map 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 quindi uso la mappa per dire Y da dove l'ho scoperto l'ho scoperto da U U da dove l'ho scoperto l'ho scoperto da T e quindi in un ciclo mi scandisco la mappa al contrario quindi teniamo presente questo tipo di operazioni ecco per concludere invece eravamo arrivati qua ecco c'è ancora ancora solo una quindi eravamo arrivati qua a vedere l'operazione traversal listener dove quella che c'è più di vari listener tra i vari listener quello che c'è più utile al momento è quello di tipo edge traverse che abbiamo usato per ricostruire l'albero di visita operazione appunto non banalissima ma come abbiamo visto si fa una volta capito si fa facilmente bisogna entrare nella logica dell'event handler per eventi legati all'iterazione cioè cose che succedono durante l'iterazione e poi devo estrarre l'informazione e poi devo capire che sia sotto le dati a mappa per presentare l'albero fatto questi tre passaggi contestuali tutto sommato il codice è relativamente semplice gli altri tipi di eventi ci serviranno molto più raramente devo dire all'interno di questo corso sono tutti eventi generati dal listener da tutte le classi listener la classi listener di cui noi abbiamo diciamo fatto l'esperienza diretta della visita in ampiezza della visita in profondità ce ne sono altri ad esempio questo closet first che a volte può essere può tornare utile nel caso di grafi pesati quindi lo cito solamente rapidamente dicendo che nella scelta del prossimo vertice da visitare lui cerca di attraversare l'arco con peso minore con peso più piccolo tra gli archi possibili quindi capisce nella visita voi avete visitato un certo insieme di vertici ci sono tanti archi candidati a portarvi in vertici nuovi questo oggetto qua cosa dice io cerco di prendere l'arco più piccolo col peso più piccolo e quindi cerco di scoprire ovviamente nuovi vertici cercando di spendere il meno possibile cercando di usare i vertici col peso minimo possibile partendo ovviamente da un vertice di partenza e questo non ci dà nessuna garanzia vedremo nella prossima lezione come si fa avere la garanzia e avere il cammino di costo veramente minimo ma con una complessità che è praticamente lineare se non pensiamo grafi particolarmente densi abbiamo detto che le visite sono operazioni di complessità lineare un'operazione lineare o un insieme di cammini soprattutto se mi registro l'albero di visita nel frattempo un insieme di cammini che cercano di usare possibilmente archi di peso basso il più possibile archi di peso basso e quindi saranno cammini che cercheranno di essere cammini poco pesanti poco costosi senza nessuna garanzia vi dicevo può darsi che magari attraversare un arco che pesa molto e quindi questo algoritmo non lo sceglie mi porta poi dopo a scoprire tanti altri vertici con peso molto minore rispetto ad un'altra strada che questo questo non considera tutte le possibilità quindi non è un algoritmo che mi dà la garanzia di avere i pesi minimi ma per avere a parità di tutto il resto per prendere i vertici a caso per prendere gli archi a caso prendo quelli che pesano di meno quindi c'è questa piccola limite l'altra cosa carina di questo iteratore è che possiamo mettere un limite massimo cioè se noi avessimo un grafo grande anche quello della metropolitana di Parigi noi potremmo dire va bene dimmi dove posso arrivare con al massimo 5 passaggi allora a questo punto posso mettere il limite massimo al peso pari a 5 chiaramente in un arco non pesato il peso si assume pari a 1 per tutti gli archi e quindi diventa il numero di archi oppure se la lunghezza dell'arco è il tempo di percorrenza dice senti dimmi dove posso arrivare in 30 minuti massimi allora lui si espande dalla sorgente cercando di facendo in modo che la somma dei tragitti che compie non superi mai questo limite e questo ci permette ovviamente non è una vera visita perché non si aggiunge tutta la componente connessa del grafo ma è una visita parziale limitata da un certo vincolo quindi su grafi molto grandi potrebbe essere utile dobbiamo cominciare a pensare che se il grafo è molto grande non possiamo sempre calcolare tutto dobbiamo calcolare quel pezzo che ci serve o il pezzo che ci serve prioritariamente allora questa idea di avere un limite alla lunghezza massima del cammino della visita dopodiché mi fermo quindi non vado a scoprire nuovi vertici anche se ci sarebbero ma non vado a scoprirli perché anche se sarebbero lì pronti ma non li vado a inserire perché superano un certo vincolo che mi sono messo anche la visita in ampiezza la potremmo limitare così nessuno ci vieta di avere la visita in ampiezza noi abbiamo la condizione vai avanti finché trovi vertici uno potrebbe mettere vai avanti finché trovi vertici o hai raggiunto cinque livelli dopodiché ti fermi lo stesso al quinto livello anche se ci fossero ancora dei vertici al sesto livello così via quindi ci sono varie altre tipologie di visita che possiamo considerare ma nel 90% dei casi l'ampiezza e la profondità sono quelle che anche per loro semplicità concettuale sono quelle che usiamo come prima scelta e con questo la lezione sulle visite è conclusa e la potremo cominciare a applicare verso in avanti nei nostri esercizi arrivederci grazie a tutti